Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata alla rimozione delle camere COC dal lungomare di Gela. Sono iniziate questa notte le delicatissime operazioni, vediamo. E' iniziata a 1.30 di stanotte il trasferimento della prima mezza camera COC dal porto rifugio al petrolchimico di Gela. I mezzi pesanti hanno attraversato un percorso di circa 3 chilometri. All'altezza dei tombini erano state precedentemente collocate spesse lastre d'acciaio per evitare eventuali sprofondamenti causati dall'enorme peso della stessa camera COC. Delicatissime le operazioni per le gigantesche dimensioni del trasporto che ha sfiorato i pali dell'illuminazione pubblica. Dopo anni di mobilismo finalmente i due grossi colossi che hanno detruppato la parte del retroporto del porto rifugio vanno via. Si dirigono in una nottata tranquilla di mezza estate, come si suol dire, verso la raffineria grazie ad un intenso dialogo con Eni che si è resa disponibile a rimuoverle con un'operazione tecnica complessa seguita da ditte altamente specializzate che risiedono nel territorio di Gela. Questo è stato possibile proprio grazie alla persistente insistenza dell'amministrazione di voler vedere il panorama del lungomare liberato da quella che ormai non sarà più un'industrializzazione basata sui combustibili fossili. Ai sedicenti sponsorizzatori di azioni che hanno favorito in passato questo spostamento ricordo che il tutto si è avviato e concluso in quest'anno e quindi se è stato possibile questo spostamento lo si deve solo ed esclusivamente a chi da quando è in carica da poco meno di un anno ha permesso di avviare un processo di cambiamento e di rinnovamento che sarà il segno del rinnovamento del storico di Gela. Momenti di tensione si sono registrati questa mattina nella caserma dei carabinieri del reparto territoriale di Gela conclusi con un arresto il racconto del vice comandante Francesco Ferrante. Sentiamo. Mi sono lasciato con la mia fidanzata, arrestatemi. Con questa richiesta Grazio Pizzardi, ventenne disoccupato di Gela si è presentato questa mattina presso la caserma dei carabinieri del reparto territoriale di Gela. Sono seguiti momenti di forte tensione. I fatti nelle dichiarazioni del vice comandante Francesco Ferrante. Questa mattina intorno alle 8 un soggetto gelese, un ragazzo di circa 20 anni, si è introdotto all'interno della nostra caserma chiedendo con insistenza e in modo particolarmente agitato di conferire, di poter parlare con i nostri militari perché voleva farsi arrestare, voleva farsi sottoporre alla misura cautelare dell'arresto. Ovviamente i nostri militari con la massima serenità hanno tentato inizialmente di distoglierlo da questo intento ma lo stesso ha dato successivamente ulteriormente in escandescenza. Infatti ha anche estratto un piccolo coltello a serramanico e lo ha brandeggiato nei confronti del nostro militare di servizio alla caserma e lo ha anche brandeggiato nei confronti degli altri militari che attorno alle 8 stavano accedendo in caserma per intraprendere il loro quotidiano servizio. Ovviamente la prontezza di riflessi, la professionalità e anche la saldezza dei nervi degli operanti ha permesso di disarmare lo stesso, di ammanettarlo e quindi di mettere in sicurezza tutta l'area e il soggetto che poi successivamente abbiamo tratto in arresto. Lo stesso durante queste operazioni di ammanettamento tuttavia è riuscito anche a danneggiare un tavolino in marmo presente nella sala d'attesa del nostro comando qui del reparto territoriale di Gela. I nostri militari successivamente quindi hanno proceduto ad identificarlo, si tratta di un soggetto con un piccolo precedente di polizia per guida senza patente e lo stesso quindi è stato arrestato ed è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Gela dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria qui del tribunale di Gela. Questo soggetto diceva di volersi far arrestare perché non ce la faceva più e perché evidentemente aveva dei problemi sentimentali perché si era lasciato con la propria fidanzata e quindi riteneva di trovare la soluzione a ogni suo problema facendosi arrestare dai carabinieri questa mattina. Scoperti a Gela 39 lavoratori in nero ed elevate sanzioni per oltre 70 mila euro e il bilancio di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza. I 39 operai lavoravano per conto di una cooperativa impegnata nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli. Il datore di lavoro aveva omesso di procedere alla dovuta comunicazione al centro per l'impiego. I finanzieri hanno così provveduto a contestare una maxisanzione di oltre 70 mila euro che potrà raddoppiare se il datore di lavoro non vi ottempera entro 60 giorni. In tutto nell'azienda erano impiegati 75 dipendenti. Sit-in di protesta questa mattina davanti al palazzo di vetro della raffineria di Gela. Sit-in questa mattina Gela davanti al palazzo di vetro della raffineria da parte di una ventina di lavoratori della Sud Elettra. Le maestranze hanno inscenato una protesta contro la decisione dell'azienda di trasferire in Francia 7 dei 65 dipendenti attualmente in organico. Senza però aver chiesto un parere ai sindacati e avviare così la fase contrattuale. L'incontro previsto per questa mattina in prefettura con l'impresa è saltato perché la dirigenza aziendale ieri sera con un telegramma ha fatto sapere che non sarebbe stata presente. Il problema è che inizialmente credevamo che era una banalità e un'incomprensione da parte dell'azienda nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sta diventando quasi un caso sindacale a livello nazionale. Ha un mandato in trasferta da parte dell'azienda sui lavoratori che accettavano di andare in trasferta, questo deve essere ribadito, semplicemente ha dei chiarimenti relativamente alla contrattazione sulla trasferta. L'azienda in maniera unilaterale senza neanche concertare con il sindacato i dubbi che c'erano ovviamente sul contratto di trasferta in via dei provvedimenti disciplinari che si parla di assenza ingiustificata una cosa che va fuori ogni logica, fuori ogni regola di buonsenso e soprattutto non è sinonimo di buone relazioni sindacali. Siamo arrivati al punto che addirittura le istituzioni, in questo caso su eccellenza il prefetto che abbiamo mediato problematiche molto ma molto più serie questi qua snobbano pure l'incontro, infatti noi adesso stiamo per partire e ci vediamo con il prefetto, sono semplicemente noi, le organizzazioni sindacali e le confederazioni di CGL e Cisla Guilla. I lavoratori hanno dato disponibilità dal primo momento, visto le situazioni che ci sono sul territorio, vengono sapevoli che quelle condizioni dettate dall'azienda non sono condizioni contrattuali, noi avevamo chiesto solo delle delucitazioni in merito a queste condizioni, però la disponibilità dei lavoratori ad andare in trasferta e quindi i lavoratori si sono visti recapitare un biglietto di aereo nella stessa giornata in cui alcuni di essi lavoravano, quindi finivano di lavorare e dovevano prendere l'aereo per andare a Dunkerque in Francia dove c'era questa attività. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. La domanda di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali e paritarie, ovvero ai liberi consorsi comunali per gli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente se è maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. Operazioni di bonifica alla diga foranea del porto commerciale di Gela. L'intervista al comandante della Capitanere di Porto di Gela, Pietro Carosia. Sentiamo. Come potete vedere alle mie spalle, in questi giorni stiamo raggiungendo un altro obiettivo che era quello di finalmente ripulire la diga dai rottami ferrosi che ci sono rimasti dopo l'amareggiata del 1984. Una ditta che sta assumendo manodopera locale e questo tengo molto a precisarlo perché da quando sono qua cerco sempre di impegnarmi per far assumere le persone che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi dell'indotto, inizieranno, stavo dicendo, i lavori a breve termine con l'arrivo di un motopontone da più di 500 tonnellate a cura della sud elettra. È un obiettivo molto importante in quanto creava un grosso inquinamento ambientale, tutti i rottami che vedete alle mie spalle, tutti i tubi, i rack così chiamati che vedete tra le mie spalle creavano un grosso inquinamento ambientale e oltretutto si potrebbe prefigurare per un prossimo futuro un utilizzo diverso della diga. Questo sempre rientra tra i diversi obiettivi che mi sono prefissato arrivando a Gela circa due anni fa. Nasce a Gela una sezione giovani all'interno del gruppo archeologico Geloi, associazione preseduta da Emanuele Salafia e diretta da Giuseppe Laspina. La scelta di aprire tale sezione deriva dalla volontà di avvicinare i più giovani al mondo dei beni culturali nella convinzione che educando le nuove generazioni all'arte e alla conoscenza storica sia possibile iniziare un percorso serio di rinnovamento e crescita culturale nella città di Gela, hanno detto i vertici dell'associazione. I coordinatori della neosezione giovani che ha già aperto le iscrizioni sono Graziano Amato, Martina Bella, Isaac Dell'Area e Martina Nuzzi. Al via l'edizione 2016 del corso di iconografia I volti della misericordia promosso dall'opera Pia Pignatelli e Roviano di Gela e condotto dai maestri dell'atelier San Vladimir di Siracusa. Il corso formativo avrà inizio il 17 agosto prossimo e si concluderà il 27. Sono previste lezioni frontali e laboratori creativi. Le iscrizioni saranno effettuate mercoledì 10 agosto dalle 18.30 alle 19 nei locali di via Feace. Il seminario teorico pratico prevede vari livelli di studio, collezioni di teologie estetiche e tecnica oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'antica arte bizantina. Direttore dei lavori sarà la dottoressa Mirella Roccasalva Firenze, maestra iconografa e docente di arte sacra e iconologia. Il corso è un progetto ideato da Monsignor Grazio Alabiso e dal direttivo dell'Opera Pia. Per informazioni c'è anche un numero di telefono 345 4106 243. Medin si si ricompie un anno. Il trimestrale di costume e società diretto da Giusi Costanza e Rosa Battaglia, Gulizzi Edizioni spegne la prima candelina oggi all'Eschilo Lab. Da domani il magazine sarà disponibile in tutte le edicole della città gratuitamente. Ai lettori, ai nostri sponsor e a quelli che verranno, va il nostro impegno e la capabilità di crederci. Nonostante tutto, nonostante tutti, dichiara la redazione Sparrapicca, voleva essere un monito, parlare poco di cose che non conosciamo e di storie che a volte fanno un po' paura per reticenza sociale e mentale. Ci fermiamo, termina qui la prima parte del nostro telegiornale e arriva la pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Disaggi si registrano nella zona di Tenutella di Marina di Butera. I residenti sono esasperati. Vediamo. Protestano i residenti di Contrada Tenutella a Marina di Butera. Da diversi giorni infatti la zona è a secco e i disagi per un villaggio vacanza con i suoi 700 ospiti, un B&B e per decine di residenze estive con centinaia di persone sono notevoli e gravi. C'è anche il problema della viabilità con una gara d'appalto per il rifacimento completo della strada principale e della illuminazione pubblica, espletata un anno fa, aggiudicata da molti mesi ma ancora ferma. Esasperati i residenti ai nostri microfoni. Il comune di Butera ha chiamato questa zona Marina di Butera perché prevedeva in quest'area uno sviluppo turistico. Ma si può fare sviluppo turistico senza acqua, senza luce e con le strade precarie. L'acqua manca da noi da dieci giorni e le interruzioni proseguono nell'arco di due mesi se ne sono avuti almeno cinque o sei. Chiamare qualcuno è impossibile. L'Enel sta per staccare la luce per tutta la giornata e non si capisce perché tutta la giornata lo potrebbero fare anche in due giorni, però staccherà la luce. Quindi saremo senza acqua, senza luce e senza strade perché la strada che avrebbero dovuto rifare, l'appalto è stato già bandito, assegnato da un anno ma tutto rimane fermo. Bene, non i miei figli dopo 20 anni che venivano da fuori. Dieci giorni senza lavare la faccia. Io me la prendo a Santo Petro e gli ho giocato la busta d'acqua. E' la verità. Siamo venuti dalla Francia domenica mattina, siamo arrivati qua inutilmente perché non c'era acqua, non c'era luce, la strada è tutta bucata. Cosa facciamo qua? Dobbiamo tornare da dove siamo venuti. Io gestisco qui un BNB. Giustamente quando il sindaco va in televisione a dire che Butera ha vocazione turistica, a me viene da sorridere perché qui non si riesce a fare niente, non il turismo, ma nemmeno a poterci stare come persona fisica, come famiglia. Manca l'acqua, manca luce, spesso e volentieri. Io non ho capito perché. Solo qui la luce almeno una o due volte al mese deve essere interrotta per manutenzione. Perché non la definiscono completamente? Non l'ho capito. Diciamo che diventa impossibile così gestire un BNB. Abitarci, perciò come dobbiamo fare? Che il sindaco provveda in una maniera definitiva a tutte queste esigenze che abbiamo. Saranno le chitarre dei Pot Scrapers, le protagoniste del secondo appuntamento del calendario del Gelas Music Fest. Appuntamento oggi alle 21.30 in corso Vittorio Emanuele con la band composta da Valentina Cassarino alla voce, Luigi Del Rico Romano alle chitarre, Gianni Giarratana al basso e Dario Ianni alla batteria. È prevista per stasera la serata blues and jazz patorcinata dal comune di Gela ai muretti di Macchitella. In scena i Mamba, gruppo musicale proveniente da Ragusa. Continuano i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela. Da oggi comincerà il trigo. Oggi l'effigie del Santo sarà portata nel quartiere Albani-Roccella e domani nel quartiere Poggio Blasco. Sabato 6 agosto alle 18, recita del Rosario alle 18.30 Vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari. Prevista la processione del simulacro in Piazza Santa Faustina si terrà la benedizione con la reliquia. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone dell'estate gelese. Il punto sui prossimi spettacoli in questo servizio sentiamo. Continuano gli appuntamenti previsti nel cartellone estate a Gela 2016 promosso dall'assessorato agli eventi del comune di Gela. Stasera alle ore 21 in Piazza Salandra partirà il Gelas Music Fest. Alle 21.15 domani sera al Teatro Arena Antidoto di Macchitella si aprirà il sipario sul premio Rocco Federico, giunto alla sua quarta edizione. Presenteranno la serata Mari Caricci e Roberta Federico. Tra le sezioni previste i diplomati e laureati eccellenti del 2015 e promozione della cultura e dell'arte, inoltre i riconoscimenti saranno assegnati per lo sport. Allo stesso orario nella zona rinascimento sarà di scena la musica folk dell'associazione culturale Sergio Di Dio. Fine settimana all'insegna dello sport invece sabato e domenica prossimi a Lido Controcorrente. Dalle 10 alle 22 si disputerà il torneo nazionale di beach volley FIPAV nella forma di King and Queen. Sempre domenica 7 sono in cartellone diversi appuntamenti. Alle 19 Palazzo Pignatelli ospiterà uno spettacolo di musica contemporanea e cabaret dell'associazione culturale Giardino delle Muse. Alle 21 al Paradisea Park di Macchitella si terrà la tappa gelese del concorso Ragazza Moda e Spettacolo. Sempre alle 21 a lungomare serata dedicata ai bambini con gli happy events. Allo stesso orario a San Sebastiano l'associazione culturale Sergio Di Dio terrà uno spettacolo per gli appassionati di folk e dalle 21 infine nel cortile esterno dell'ex monastero delle Benedettine gli amici della musica Giuseppe Navarra terranno un concerto per chitarra. Per il secondo anno consecutivo il Volley Jail organizza il torneo nazionale beach volley FIPAV nella forma del King and Queen al Lido. Controcorrente dopo i successi della passata edizione arriveranno 16 dei migliori atleti del panorama nazionale maschile e femminile. Nomi di punta che divertiranno il pubblico nel prossimo fine settimana. Nel calendario della settimana del volley sono stati inseriti due giorni di beach volley amatoriale aperto a tutti. Oggi e domani in notturna ci sarà il torneo giallo dove tutti gli appassionati potranno iscriversi e passare due serate di divertimento e sport. Domani ci saranno due partite di esibizione una maschile e una femminile di alcuni degli atleti che il 6 e il 7 daranno spettacolo presso il Lido del controcorrente. Il torneo nazionale sarà animato da Alma de Cuba di Massimo Cavallaro e dalla scuola di ginnastica artistica di Walter Micciche. Appuntamento infine con il teatro all'aperto all'antidoto a Gela. Oggi alle 21 e 30 la compagnia teatrale antidoto porterà in scena servizio in camera. Il prezzo del biglietto è come sempre di 5 euro a coppia. Invece domani alla sessa ora è previsto il galà di premiazione con ingresso libero del sesto premio Rocco Federico. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.